Buongiorno a te, sono qui a Dantechera, un luogo molto particolare, ci sono dei dolmen di origine celtica, sono in Spagna, è molto particolare questo luogo, c'è un'energia molto ancestrale, sono venuta qui per fare del lavoro e sentire quale fosse l'energia di questo luogo. Bene, in uno di questi dolmen è accaduta una cosa molto particolare, c'è un pozzo che mi ha stimolato nel fare un lavoro proprio, è come se chiamasse tutto quello che potevo lasciare andare e quindi ho iniziato a fare questo lavoro per lasciare andare qualsiasi cosa, anche di cui non fossi consapevole, quindi emozioni, pensieri, tutto quello che poteva avere a che fare con ciò che senti di voler lasciare andare. Cosa è accaduto? È accaduto che si è presentata l'entità che era lì per proteggere questo luogo, scusa se faccio queste facce ma c'è un sacco di gente che mi voleva passare dietro, quindi si è presentata questa entità che non so, non ho la più pallida idea di chi fosse, ma era un'entità che aveva delle sembianze come se fosse un uomo di fango, molto poco definito, molto grande, molto protettivo, proprio il guardiano del luogo. Ed è successa una cosa molto particolare perché un mio amico che era con me, quando gliel'ho descritto, mi ha fatto vedere un'immagine di una scultura, di un calco che hanno fatto nella zona basandosi su alcuni, non so come chiamarli, scavi, bassoriliedi, ed aveva le stesse identiche sembianze, qualcosa di veramente molto molto particolare. Bene, volevo solo di condividere questo con te e questo può essere anche uno stimolo per te per ascoltare il tuo sentire, per avere fiducia di quello che percepisci a prescindere da quello che sia il tuo livello di percezione. Ascoltati che la vita a volte ti dà dei segnali veramente molto interessanti. Ciao e buonissima giornata!